Questa mattina la tappa foggiana dell'iniziativa Una colomba per la vita dell'Admo, ci racconta un po' l'iniziativa? Allora noi ogni anno per finanziare tutte le attività di Admo proponiamo questa iniziativa di vendita di colombe, ma è importante non solo la vendita delle colombe, ma soprattutto sensibilizzare l'opinione pubblica alla donazione del sangue midollare, quindi del midollo osseo. Il messaggio che noi stiamo dando soprattutto ai giovani tra i 18 e i 35 anni è quello di una donazione che non fa male e può essere utile per una persona affetta da leucemia, linfomi come ultima speranza. Noi siamo qui stamattina proprio per questo obiettivo. Che risposta sta dando la piazza foggiana? Allora la piazza foggiana è sempre sensibile a tutte le iniziative. Quello che noi vogliamo proporre è soprattutto il coinvolgimento dei ragazzi, dei giovani, anche e solo nel volontariato, perché è importante che i giovani conoscano la cultura del dono.